Ciao ragazzi, benvenuti in questo video, io sono Walfix e oggi siamo ritornati con un nuovo videogioco Esatto, come vedete ci sono gli autobus, abbiamo, cioè è un simulatore di autobus E si, porca miseria questo mi sto venendo incontro Si mi scusi, mi tolgo tra poco, fammi un attimo fare la intro Allora, come ho detto, ho installato questo videogioco chiamato Bus Simulator Indonesia Perché si, infatti come vedete ci troviamo in India E si, infatti qui c'è il mio autobus che l'ho modificato E infatti vedete che ho messo il logo del lupo, la scritta Kitsun Travels e la bandiera italiana Ma però, vi dico un segreto, questa qui l'ho creata proprio io questa skin Perché ho scaricato da Google una skin libera, diciamo tutta pulita E con un editor ho scritto la scritta Kitsun Travels e ho messo il logo del lupo E si, non è niente male, tra l'altro ho messo anche la targa OUO Perché si, diciamo mi stava veramente simpatica E si, vedete lì ci sono i passeggeri che dovevo andare a prendere Però prima di iniziare il viaggio vi consiglio di iscrivervi al canale Attivare la campanella di anedotifiche e di lasciare un bel like Ok, iniziamo subito il viaggio Ok ragazzi, abbiamo iniziato il nostro viaggio E sarà parecchio lungo da quel che ho visto Quindi sarà una bella, una bella corsa Sì, però quanto stiamo andando? Cioè 56 km, anzi sì, 56 km all'ora stiamo andando Cioè, magari un po' di più perché c'è, non c'è mica un limite Ok, posso superarli Sì ragazzi, non è una cosa che dovrete Sì, non fate queste cose che sto facendo io perché Diciamo non è ideale, anche perché si va contro la legge Però non mi importa Ai ai ai, qui c'è il semaforo rosso Ma a me non mi importa perché io sono Perché mi sento ganso e vado via Oh cavolo, la pula, la pula, la pula Eh, boh, non m'ha visto Boh, comunque sì Ma sì, non vi ho fatto vedere le luci Tadà, posso, perché pratica me Porca miseria di passeggeri, mi dimenticavo Ai 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 ai, dimenticavo Aspetta, torniamo un po' indietro Comunque ragazzi, come vedete Ho messo delle luci Che, aspetta, adesso vi giro Tac, ecco Ho messo delle luci come in Proprio come i veri autobus Ho messo davanti Sulle fiancate E anche dietro Eh, già Non è male, vero? Andiamocene prima che Questo qua ci stava per tamponare Andiamocene via Subito Ok ragazzi Abbiamo cambiato zona Siamo arrivati fino Tipo tra le montagne E ci troviamo tra le montagne indiane E sì Eh, però mi spiace Non si vede molto bene Perché sta piovendo Al momento E sì Quindi, già Non è, diciamo Un ottimo paesaggio Al momento Accidenti però Quanto traffico Cioè, io vado Per la strada sterrata Non mi interessa Niente adesso Eh Chi se ne frega Ragazzi Ehm Cari passeggeri Scusate se io vado Per la strada sterrata Ma Contro cosa ho sbattuto? Non lo so Hop Eh, scusi No, adesso io No, dicevo che stavo Mi sono un po' stufato Di vedere queste auto Che stavano lentissime A 50 all'ora Eh, no, no Non mi spiace Ma io vado a modo mio Eh, sì Ok ragazzi Allora Abbiamo di nuovo Cambiato zona Ci troviamo quasi vicini Alla destinazione Proviamo a superare Questo camion Ok Non si dovrebbe superare Perché c'è la linea Non tratteggiata E quando Non c'è la linea tratteggiata Non si dovrebbe superare Però Siamo in un videogioco E si può fare tutto Ehm Strade molto pericolose Tra l'altro Guardate C'è anche un burrone qua Cioè, se finisci lì Evitiamo di Ah, ma c'è un motociclista davanti Ops Eh, chiedo scus- No, no, no Ho fatto danno Ai, ai, ai Eh, signore e signori L'autostrada rimarrà chiusa Per un pochino Perché c'è un autobus Che si è incagliato Su un guardrail Colpa mia Vabbè Oddio Cos'è questo? Un tornante Mamma mia Quanto è pericoloso No, cioè Non è pericoloso Basta andare piano Però Cioè, ragazzi Venire con un'auto da drift Qua Ti diverti a fare Tokyo Drift Cioè Un giorno voglio provare Con la corriera Cosa succede Ma Non lo so Orca vaca Accidenti Ups Vabbè Lasciamo stare, va Ok, piano Piano Bene Però ho notato anche un dettaglio Guardate cosa succede Se io faccio col clacson Contro la corriera Guardate Cioè, si sposta Leggermente A sinistra Ah, dobbiamo caricare Una nota Va bene Ok, ragazzi Credo che siamo arrivati A destinazione Siamo a Padang Dobbiamo girare per di qua Attenzione Sì Ok, ragazzi Siamo arrivati Però Non siamo Cioè, siamo arrivati in città Ma non siamo ancora arrivati Alla stazione dei bus Quindi Già Ok, benissimo Uh, qui cos'è? Ah, un shopping mall Mmm, bello Ok Mmm Devo Ragazzi Devo stare più attento Magari Ai camion Mmm MFC Ah, oddio Una pubblicità Cioè, ragazzi Non esiste più quella catena Esiste la nuova catena MFC Giusto Giustissimo Un campo da calcio Va bene Andiamo Oh, cavacca C'è un'ambulanza anche Ok Di qua c'è il terminal C'era scritto di là Quindi possiamo andare Di qua Un bel porto Guardate qua Ragazzi Guardate che roba Bellissimo No, veramente bellissimo Comunque devo fare No, ragazzi Faccio i complimenti Ai sviluppatori Di questo videogioco Lo voto 5 stelle E veramente Questo gioco Mi sta piacendo Anche sì Cioè, il traffico È un po' lento Però Almeno Ci si diverte A guidare Ragazzi Ce l'hanno sviluppato Benissimo Questo videogioco Se volete Lo trovate Su Play Store E sì Non è male Non è male Ok Dobbiamo andare Per di qua Sì Giusto Hola Eccoci qua Arrivati Ok Quanto ci abbiamo messo 16 e 45 Cavolo Siamo partiti Di mattina E siamo arrivati Di pomeriggio Ok Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate like Iscrivetevi E commentate E attivate anche La campanina delle notifiche Noi ci rivedremo Nel prossimo episodio Ragazzi Ovviamente Se vi è piaciuto il video Le faccio un altro Ok Quindi ragazzi Ci vediamo nel prossimo Ciao Ciao